Buongiorno, siamo dopo la partita tra Mister Bianco e Spar Calcio, finita a 0-1. Siamo con l'annatore Somma, com'è andata questa partita? Ragazzi, intanto buonasera, sono Mister Somma della Spar Calcio, Buccini. La partita dal punto di vista atletico si sono comportati bene, soprattutto quelli più piccoli che magari da uno a uno si aspetta un po' meno, ma nella partita che abbiamo fatto con il Mister Bianco hanno reso quasi di più di quelli grandi. Infatti io mi congratulo con tutti i miei ragazzi che si sono impegnati al 100% e speriamo di raggiungere altri risultati positivi entro la fine dell'anno calcista. Bellissime parole da parte del tuo allenatore, del vostro allenatore. Allora, oggi è arrivato il gol per te, Andrea. Sì, beh, questo gol lo dedico soprattutto alla mia squadra che si impegna, non si arrende mai ed è abbastanza forte. Beh, questa vittoria, il gol, cioè, sono stato, sì, il più bravo di tutti a dentro il Mister, ma... E' la squadra che ha girato, quindi siete tutti quanti bravi. Tutti quanti bravi. E' importante essere tutti quanti belli in compatti, così poi se c'è quello che segna la mette dentro subito. Ripeto, questa vittoria è l'entrata con la mia squadra. Belle parole allora, sia dall'allenatore che dal migliore, quindi li ringraziamo e ci vediamo.